Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi guardiamo un po' tutte le classi di Lords of the Fallen e vi consiglio anche quali sono le migliori per iniziare, per i principianti magari dei Souls-like, quali sono quelli un pochino più difficili e in generale un po' come funziona la selezione del personaggio iniziale in Lords of the Fallen. E vi darò anche un piccolo consiglio sulle stats iniziali dove metterle, perché questo Souls-like funziona in un certo modo e dopo averci giocato qualche ora, ecco, anch'io avrei voluto questi consigli prima di buttare un po' qualche punto statistica. Prima di cominciare vi dico anche che penso domani farò la mia prima impressione del gioco e sarà molto interessante dato che questo è un gioco abbastanza controverso perché ha un bel po' di problematiche, ma anche cose molto carine, ma anche un bel po' di problematiche. Comunque iniziamo, queste sono le classi che potete scegliere all'inizio in Lords of the Fallen, quindi Cavalleria, Consacrata, Lupo da Guerra, Patriota, Fanteria, Ranger, Carnefice, Predicante, Seguace, Miserabile. In realtà ci sono altre, mi sembra, quattro classi nascoste, segrete, ma di queste so un po' poco, quindi vi accennerò giusto le mie nozioni, ma lo farò alla fine del video. Cominciamo comunque dalla Cavalleria Consacrata, con una piccola premessa però. Come tutti, o quasi tutti, i Souls-like, ma sicuramente come tutti i Souls di From, la scelta della classe iniziale è solamente una piccola traccia di come voi volete cominciare a giocare, perché chiaramente una volta che voi entrate nel gioco, cominciate a mettere le statistiche dove volete voi, cominciate a usare gli oggetti che trovate, potete modellare il personaggio come volete, non è vincolante in nessun modo. Tra l'altro tutti gli oggetti di classe, di ogni singola classe, poi vengono trovati in qualche modo durante l'esplorazione del mondo. O venduti da alcuni vendor, o trovati in alcuni posti, quindi alla fine potrete avere tutti gli equipaggiamenti di tutte le classi e potete anche rimodellare una classe, ovviamente mettendo i punti dove volete voi. Vi dico subito che si può fare le specche in questo gioco, però sono un po' rari, ce ne sono tipo solamente due o tre in un playthrough intero, quindi state bene attenti a dove mettete i punti, perché non avete tante possibilità di fare le specche. Premesso tutto questo, cominciamo dalla Cavaliere Consacrata. Allora, il Cavaliere fondamentalmente è la classica, perfetta classe iniziale per i principianti o chi vuole iniziare appunto facilmente, perché semplicemente ha l'armatura più pesante che potete scegliere tra tutte le classi iniziali, quindi avete molta difesa, avete una spada lunga e uno scudo, buon scudo, quindi potete giocare spada e scudo con una certa tranquillità. Statisticamente parlando avete forza, costituzione e vitalità sopra il 10, quindi bene. E per inciso le statistiche sono proprio quello che potete immaginare, quindi forza riguarda tutte le armi che tendenzialmente sono un pochino più brutali, e quindi a cui serve forza e scalano ovviamente con forza, agilità, armi pochino più duttili e quindi ovviamente cose che scalano con agilità, costituzione riguarda fondamentalmente la vostra stamina e quindi più stamina avete, più energia avete, quindi più roll e più colpi. Vitalità è proprio quello che immaginate, quindi la vostra vita, quindi più vitalità, più HP, più punti vita. E poi radiosità e inferno sono due statistiche legate principalmente alle magie. Radiosità, magie sacre tendenzialmente, e inferno tendenzialmente, magie di piromanzia e del fuoco. In realtà c'è una terza linea di magie, che sono le magie dell'Umbral, quindi molto Lord, di Lords of the Fallen. In quel caso quella tipologia di magie usano entrambe radiosità e inferno, quindi dovete averle a un certo livello. È un po' come avere un quality build, però dal lato magico. Comunque, ritornando al Cavaliere, è appunto la classica classe corazzata, ben impostata per la difesa e quindi con cui iniziate tranquillamente spada e scudo e buona vitalità. Inoltre, come arma ranged, iniziate con le bombe sacre, quindi potete lanciare delle bombe che fanno danno ad aria sacro. Cosa molto buona perché, soprattutto nella parte inizia del gioco, molti nemici sono sensibili alla magia sacra, quindi alla radiosità. Andando avanti abbiamo il lupo da guerra, Udyrgngargr, insomma lupo da guerra. Questo è il vostro classico DPS glass cannon offensivo, tipo Berserk se vogliamo. Inizia con una spada a due mani e con un'armatura tendenzialmente leggera. Come arma ranged ha delle asce da lancio. Come vedete inizia con 16 di forza, 13 di costituzione e 10 vitalità, quindi neanche tantissime vitalità, quindi basato proprio tutto su forza come inizio e costituzione, quindi più stamina. Se volete iniziare subito menando forte, però dovete schivare tanto, potete provare col lupo da guerra. Chiaramente dovete stare decisamente più attenti, proprio perché non iniziate con tanta vita, siete leggeri di armatura, però potete fare tanti danni. Quindi lo consiglierei a chi è un pochino più già schillato, oppure comunque vuole giocare subito con uno stile di gioco da glass cannon, melee ovviamente. Terza classe con cui si può partire, il Patriota. Il Patriota un po' assomiglia alla Cavalieria Consacrata, potreste dire. In effetti è così, perché inizia effettivamente spada e scudo, in questo caso mazzafrusto e scudo, e con un'armatura che è abbastanza comunque pesante. Un'armatura di maglie che non è pesante quanto quella della Cavalleria, però diciamo che è la seconda migliore tra quelle iniziali. Inizia con 13 di forza, 12 d'agilità, 12 costituzione e 12 vitalità, quindi un bel po' di statistiche abbastanza bilanciate. E come arma da distanza ha questa balestra, che comunque fa dei bei danni. Quindi questa è una classe molto bilanciata, quindi questa pure la consiglierei, se volete un inizio un pochino più semplice, proprio perché è molto bilanciato, abbastanza corazzato, un bel po' di statistiche, è proprio quello che mi viene a dire bilanciata, super bilanciata. Andando avanti, la fanteria di Morristead. Qua abbiamo un guerriero un pochino più leggero rispetto al Patriota e la Cavalleria a livello di equipaggiamento, però una particolarità, iniziamo con una lancia lunga e uno scudo piccolo. Nonché dei giavellotti da lancio, cheppure questi sono più che buoni a far danno da distanza. Ricordatevi che in questo gioco tutte le armi da distanza sono molto importanti, perché ci sono tanti nemici che vi sparano da lontano, e quindi rispetto ai classici Souls userete spesso le armi da lancio. In questo caso comunque iniziate con la lancia, che ha la sua grande particolarità di avere tantissimi affondi. Più o meno tutti i moveset della lancia, ma alla fine sono affondi o cariche con affondo. Che da un lato è buono, perché tenete la distanza, dall'altro lato è un po' meno buono, perché avete praticamente quasi nessun attacco di spazzata. Fatto sta che se vi piace iniziare con la lancia, questa è la vostra classe ideale. Siete anche messi abbastanza bene come armatura, anche se non è pesantissima. E come statistica, come vedete, inizia con forza, abbastanza tanto agilità, costituzione e vitalità. Non tantissima vitalità, quindi comunque dovete stare attenti, però avete la lancia, che ha un bel reach lungo. Quindi secondo me è buona per iniziare anche per i principianti, però con un pochino più di difficoltà, perché avete un'armatura un pochino più leggera e un po' meno vita. Però la lancia è buona e anche i giavellotti sono molto buoni. Andando avanti, il cosplay di Bloodborne, ovvero il Ranger Piuma Nera, che tra l'altro è la classe che ho scelto io con cui ho iniziato. Questa è un po' particolare, non è facilissima da utilizzare all'inizio, perché chiaramente, come vedete, ha 10 vitalità, non inizia con tanta vita. Inizia con un'ascia che è buona come arma, abbastanza forte, può essere anche usata ovviamente a due mani, come tutte le armi, e uno scudo che però fa abbastanza cagare. Però inizia con un arco che invece è molto buono, perché utilizza una sola munizione per freccia e fa dei bei danni. Quindi effettivamente è un Ranger. Quindi è questa classe mista, dove utilizzerete spesso le armi da distanza, quindi l'arco alternato chiaramente alla vostra ascia. Vedete che non ha tantissime statistiche, perché inizia da un livellino un pochino più basso, intorno all'8 invece le altre iniziano a 10, 11, 12, addirittura a 14 qualcuna. Quindi non avete tante statistiche. Considerate che l'ascia iniziale è un'arma quality fondamentalmente, quindi avete bisogno di forza e agilità. Però iniziate con 11 di costituzione e 10 vitalità, poche stats. Quindi è decisamente un pochino più difficile da approcciare. Non super super consigliata se siete un po' principianti e volete iniziare in maniera più facile. Qua comincia ad essere un pochino un po' complicata la situazione. Però avete il cosplay di Bloodborne, quindi figuro. Andando avanti, il carneficile in esilio, che come potete ben capire è una sorta di assassino, e viene anche taggato come classe avanzata, quindi decisamente poco noob friendly se non siete avvezzi a questi tipi di giochi, perché iniziate con abbastanza poca vita e costituzione, tantissima agilità, perché i coltelli fondamentalmente sono armi che si basano principalmente su agilità, però fate un botto di danno. Questo è proprio il Glass Cannon Agility. Se il lupo da guerra era il Glass Cannon basato su forza, questo è quello basato su agilità. I doppi coltelli fanno veramente tanto danno, tant'è che li sto usando nella mia build con il cosplay di Bloodborne, adesso sto usando i coltelli, e effettivamente fanno un botto di danno. Certo, non hanno tanto range, dovete stare veramente appiccicati, però hanno anche dei begli attacchi dove si salta addosso agli avversari. E poi come arma dalla distanza, il carnefice ha altri coltelli da lancio, che possono tra l'altro recare sanguinamento. Qui c'è poco da dire, se siete il classico rogue, se siete il classico assassino, è quello stile di gioco dove basate tutto sull'agilità, schivare e fare tantissimi danni. Però quando prendete le mazzate, le prendete forte perché è vestito veramente leggero. Per quanto riguarda invece il predicatore di Horus, come potete immaginare da questa immagine appunto, è una sorta di chierico. Infatti basa tutto su radiosità, e quindi è la classe iniziale consigliata per chi vuole subito cominciare a tirare le magie di fede, quindi radiosità. Inizia con un martello, che può essere ovviamente come tutelarmi un pugnato a due mani, che tra l'altro fa dei danni, e anche un catalizzatore, perché ovviamente dovete poter usare un catalizzatore per usare le magie. Viene taggata come classe avanzata, però in realtà è una classe che, insomma, è abbastanza forte all'inizio del gioco, perché avete tanti danni radiosi, dove tutti i nemici all'inizio sono deboli alla radiosità, e anche il martello comunque se andate in corpo a corpo tira delle belle mazzate. Certo, non avete tantissima costituzione, quindi poca stamina, non avete tanta vitalità iniziale, però poi uno dei miei consigli sulle statistiche sarà quello, ma poi sarà taggato specificatamente nei capitoli del video, di alzare all'inizio tanta vitalità, poi vi spiegherò il perché. Quindi comunque io in realtà la consiglierei all'inizio, se volete questo tipo di personaggio da costruire, iniziare subito con il predicatore, perché secondo me comunque non è tanto scarso, anzi è molto forte all'inizio. Ovviamente siete leggeri, perché iniziate con una vestaglia, quindi comunque quando vi colpiscono vi fanno bei danni. Per quanto riguarda invece il seguaccio del fuoco, beh, è esattamente quello che voi potete immaginare anche qui. Quindi la classe iniziale è ideale se volevate costruirvi un personaggio mago di fuoco, quindi con le magie di inferno, depiromanzia. È abbastanza speculare all'inizio rispetto a quello del predicatore, infatti anche qui avete poche statistiche difensive, vitalità, costituzione bassa, tanta magia di inferno e vestiti di stracci. Il problema però è che all'inizio del gioco i nemici sono quasi tutti resistenti al fuoco, quindi è un casino sta classe. Quindi se il predicatore magari io ve lo posso anche consigliare, se volete un inizio abbastanza semplice, tra virgolette sempre, il seguaccio di fuoco molto molto meno, anzi è proprio il contrario, perché le magie che tirate saranno resistite tanto all'inizio. Quindi valutate bene la situazione di cosa scegliere, perché potreste pure fare una classe un pochino più neutra come statistiche e poi specializzarvi in fuoco in un secondo momento, per non avere questo svantaggio iniziale. E poi ovviamente c'è la classe miserabile, come in tutti i souls di From, potete iniziare con una classe che non ha praticamente niente. Vestito di stracci, senza armi, con un secchio, con delle pietre da lanciare come arma ranged, e con le statistiche tutte a 9 basse. Che da un lato è uno svantaggio, ovviamente, è la classe più difficile in cui iniziare, tant'è che la taggano con scegliala a tuo rischio. Però dall'altro canto siete una carta bianca, potete costruire il personaggio proprio come volete, perché avete le statistiche tutte basse, e quindi potete ottimizzare, diciamo, le statistiche durante la costruzione del personaggio. Però assolutamente la più difficile, però ogni cosa che trovate sarà un piccolo tesoro, questo è un grande classico, è anche il motivo per cui molti scelgono questa classe iniziale, però assolutamente consigliata per il più esperto, o comunque per chi vuole una sfida ancora più complicata. Detto ciò ragazzi, queste sono tutte le classi iniziali base di Lords of the Fallen, a questo punto vi do un grandissimo consiglio sulle statistiche da far aumentare all'inizio del gioco, e per l'inizio del gioco intendo le prime 5, 6, 10 ore, diciamo i primi 10, 15 livelli, perché questo gioco funziona in un certo modo. Io vi consiglio di mettere praticamente tutti i punti, con qualsiasi classe voi scegliate, in vitalità e costituzione, con un'enfasi su vitalità, quindi più vita. Questo ve lo dico perché in questo gioco lo scaling delle armi, tipico di tutti, come tutti i Souls, quindi le armi hanno delle statistiche taggate con A, B, C, D, E, F, più la lettera è alta, quindi A, B, più ovviamente quella statistica scala bene con quell'arma, quindi più avete di quella statistica più danni fate. Semplicemente. Ecco, in questo gioco, tutte le armi iniziali che trovate, tutte praticamente, non solo quelle di iniziali delle classi, ma anche quelle che andate trovando nel gioco, hanno uno scaling pessimo, anche se poi è quella l'arma magari da utilizzare per quel dato scaling. Il punto è che iniziano tutti con uno scaling molto alto, dal C al D al E. Ergo, i punti iniziali messi dove di solito si mettono per far più danno, quindi forza agilità, anche se sono giusti per quell'arma, non vi fanno alzare di tanto il danno, veramente di pochissimo. Invece, vitalità e costituzione scalano molto bene da subito. Inoltre, le cure vanno in percentuale, quindi più vita avete, più vi curate. Quindi all'inizio è praticamente quasi obbligatorio, se volete essere efficienti, mettere tutto su vitalità e costituzione. Perché solo in un secondo momento, quando andate davanti nel gioco e potete upgradare le armi, quelle armi cominceranno a scalare meglio. Quindi da D diventano C, diventano B, diventano A. E a quel punto, effettivamente, forza agilità, a seconda dell'arma, comincia a pesare molto di più sul danno. E dato che comunque questo è un gioco molto punitivo, dove i nemici fanno un botto di danno, e voi all'inizio avete relativamente poca vita, vi straconsiglio, dei primi 10-15 livelli, di metterli unicamente in vitalità e costituzione, e mettere il minimo indispensabile, in forza e agilità, per usare le armi che volete usare. Fidatevi che è un buon consiglio. Per quanto riguarda invece le classi nascoste, ce ne sono quattro. due, diciamo che sono abbastanza semplici, tra virgolette, da sbloccare, una un pochino più difficile e un'altra decisamente più difficile. E tre di queste sono legate a dei finali specifici. La prima è il Radiant Purifier. Questa classe è fondamentalmente una specie di predicante sottosteroidi. infatti, diciamo che inizia in maniera simile, però con un livello molto molto più alto, livello 22, con tantissima radiance, anche con una buona vitalità, con un catalizzatore e con un po' di magia. Per riuscire a sbloccarla, dovete fare il finale che ha bisogno del fatto di pulire tutti i beacon che sono presenti nel gioco. I beacon sono delle aree specifiche, particolari, a cui arriverete dopo un bel po' di ore in realtà, e che sono di fatto opzionali. Ma se le pulite tutte, appunto, potete sbloccare questo Radiant Purifier. Il suo opposto sarà invece il Lord, che ha bisogno del finale in cui invece non pulite nessun beacon, quindi li ignorate totalmente. Probabilmente un finale più cattivo. Comunque, il Lord è una sorta di anche lui mago del fuoco, se vogliamo. Infatti inizia con tantissimo inferno a 22 e anche lui con un livello molto alto, il livello 23, ma inoltre lui inizia anche con una ascia infuocata. Quindi, insomma, se volete bruciare tutto in maniera indegna, con un nuovo playthrough, potrete iniziare con il Lord. Come detto, non dovete completare nessun beacon, dovete lasciare il modo che bruci. La terza classe nascosta, che in realtà, se avete la Deluxe, ce l'avete dall'inizio, quindi non è poi così tanto nascosta, è il Dark Crusader. Il Dark Crusader fondamentalmente è un paladino oscuro, se vogliamo. Comunque, inizia con delle statistiche buone per fare una sorta di paladino, quindi forza, vitalità, costituzione, ma anche 11 di Radiance. Infatti inizia a livello 14, un pochino più alto degli altri. Ha una buona armor pesante e uno spadone a due mani. Quindi, se volete poi fare il paladino oscuro, avrete questa classe nascosta, che, ok, è nella Deluxe, però per sbloccarla, come si fa? Bisogna seguire fondamentalmente la quest di Isaac, che è il prete con cui letteralmente inizia il gioco nelle primissime cutscene, proprio prima di cominciare a giocare, e che incontrerete poi nell'hub principale del gioco. Se seguite tutta la sua questline, a un certo punto sbloccherete la possibilità di usare questo Dark Crusader. Infine c'è un'altra quarta classe, un pochino più complessa, ovvero il Putrid Child. Questo è molto particolare perché inizierà a livello 15 e sarà l'unica classe che potrà iniziare a usare le magie Umbral sin dall'inizio. Infatti, tra le sue statistiche iniziali, abbiamo 15 di Radiance e 15 di Inferno. Per riuscire a sbloccarlo, bisogna anche di fare un finale speciale, ovvero l'Umbral Ending. Solo che qua è un pochino un casino complicato, e quindi è anche un po' spoiler, se vogliamo. Diciamo che in questo caso vi invito a cercare su internet Wink Wink se volete proprio sapere come si fa questo ending specifico ed eventualmente sbloccherete questa classe particolare, segreta. E questo è quanto, ragazzi. Questa è un po' la mia guida panoramica di tutte le classi di Lords of the Fallen con anche qualche piccolo consiglio. Vi ripeto, domani vi farò una prima impressione, così poi potremo anche un po' discutere del gioco. Spero comunque che questo video sia stato utile. Grazie sempre per l'attenzione. Noi ci becchiamo alla prossima per altri video sempre sul gaming a 360 gradi. Statemi bene come sempre e ciao ciao!